Allora, io non so bene cosa sia successo, però ero a casa di mio cugino e stavamo tipo rovistando nel garage e guardate che cazzo ho trovato. Una cazzo di Acrom. Pokémon Crystal Verge, non l'ho ancora provata, non so, penso, cioè almeno credo che sia Cristaldo, dalla copertina. Sarà tipo un remake, non lo so. E comunque, oltre a questo, ho trovato anche Pokémon Naranja, o Naranca, meglio, che vabbè, adesso la telecamera con cui ve lo sto facendo vedere fa schifo, però è lui. E vabbè, questa Acrom qua è un po' più conosciuta delle altre, cioè di questa qua che ho in mano. E se cercate anche dei Let's Play su internet, credo che li troviate semplicemente. Quindi, boh, sono rimasto assolutamente estasiato da questa scoperta assurda che ho fatto. Sto registrando questo video prima di partire in vacanza, voi lo vedrete, credo, penso lunedì. Lunedì sarò in Irlanda, ho programmato dei video che usciranno, quindi il ritmo non si perderà, state tranquilli. E niente, wow, io quando tornerò proverò a giocare, se troverò qualcosa di interessante ve lo farò vedere. E niente, questo brevissimo video finisce qua, se vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, commentare e iscrivervi al canale. E noi ci becchiamo con la prossima parte di Pokémon Snakewood. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Grazie.